Ecco Presidente, voi siete già intervenuti con un comunicato, il confronto con il Prefetto per quello che sta accadendo c'è già stato? Sì, il Prefetto e il Questore conoscono benissimo le esigenze del nostro territorio e noi vorremmo assieme a loro portare queste esigenze a chi può intervenire veramente, al Governo centrale. Sono loro che possono dedicare forze e mezzi sul nostro territorio che non può essere trattato come un territorio di pari numero, di pari superficie nella nostra regione, nel nostro Stato. Noi deteniamo, bontà nostra, quantità importanti di materiale prima, di metallo prezioso e per questo motivo chiaramente siamo negli ultimi sei mesi stati attenzionati da più furti, da più tentativi anche che non sono andati a buon fine. Ecco voi dite diamogli meno tempo perché l'ultimo colpo alla Multiform si è concretizzato in 15 minuti, quindi una banda assolutamente, addirittura una decina di malviventi che sa cosa fare, sa come operare, dove e con quali modalità. Come si fa a dargli meno tempo? Decisamente noi mettiamo nelle nostre aziende i migliori presidi di sicurezza, i migliori cassaforti, i migliori sistemi d'allarme, tutti i vari presidi che sono in nostra disposizione. Però chiaramente c'è bisogno, come dicevi tu, che l'intervento delle forze dell'ordine sia più rapido possibile perché chiaramente la resistenza è quella che è e in questi casi dove sono veramente dei professionisti che fanno questi furti serve che loro non abbiano il tempo materiale per effettuarli. Ecco quindi noi sappiamo benissimo che nella nostra provincia ci sono due auto che intervengono durante la notte che è il punto più sensibile, dobbiamo cercare di aumentare uomini e mezzi. Anche perché l'alternativa sarebbe la vigilanza privata e ovviamente frugarsi in tasca. Non vorremmo implementare queste cose perché noi siamo al fianco delle istituzioni, non vogliamo denigrare il loro lavoro, però chiaramente è importante che ci tuteliamo. Quindi molte zone industriali stanno prendendo queste iniziative e è la loro disponibilità, è giusto che lo facciano. L'ultima cosa, poi ecco il colpo che lo ricordiamo tutti, insomma la Diamond ci fu un sequestro di persona. Lei ha detto che il nostro valore più grande è a casa, quindi si pensa ai figli, alle moglie, alle famiglie. Che ci stia lontana più possibile questa eventualità perché veramente sarebbe un salto di qualità veramente troppo forte. Insomma i colleghi ancora ne subiscono le conseguenze di un'operazione del genere, quindi ecco non vorremmo mai che diventassero delle cose ripetitive. Ma veramente noi confidiamo nell'aiuto delle istituzioni che non potranno fare a meno di starci accanto.